Durante il suo ultimo concerto Tony F ha avuto evidenti problemi nel cantare una canzone in particolare Ovvero F, il tormentone virale dell'estate per cui tutti quanti lo conoscono in questo momento Perché a quanto pare non riusciva a ricordare le parole Ora non si sa se avesse bevuto, esagerato con l'alcol o utilizzato sostanze Ma ciò non toglie che effettivamente il riuscire a fare il concerto è stato un problema Perché si bloccava continuamente e non riusciva ad andare avanti con la sua stessa canzone Vi lascio il filmato inedito, fatemi sapere con commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo al prossimo video in linea al studio Ok grazie Vai, matalo, bravo Come è tale, va, si lo dice Sei, 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 sei